Piccola macchia di Lionel Leonovic. Piccola macchia si annoia senza amici nel suo angolino. Piccola macchia, astrotando il suggerimento della mamma, parte alla ricerca di amici. Incontra piccole figure che stanno litigando tra loro. Chiede di giocare, ma gli dicono, vai via! Piccola macchia ritorna a casa in lacrime. Mamma e papà lo consolano e gli svelano un grande segreto. Piccola macchia torna tremolante dal gruppetto e improvvisamente si trasforma in un grande mostro. Ora insegno anche voi a trasformarvi. Come si divertono! Oh, che bello il tuo gioco! Ora tutti insieme formano una faccia, un sorriso. Sono tutti felici! Che bello!